Nel servizio di Lorena Dolci della psicosi del coronavirus, molto spesso purtroppo incentivata dalle fake news, quello che è successo a Messina. Sentiamo. E stamattina al nostro nosocomio è arrivato un sospetto coronavirus. Questo video è circolato velocemente grazie alle chat sui telefonini e dai social network ed ha alimentato preoccupazione d'allarme a Messina. A realizzarlo un infermiere del policlinico che comunicava la presenza di un caso sospetto di coronavirus, quello di un torinese arrivato in città e che si era sentito male. Il test effettuato sul paziente con il tampone analizzato a Catania è risultato negativo ma è bastato quel video per alimentare la psicosi. Mentre l'autore del video è stato intanto sospeso dalle mansioni e denunciato per procurata allarme, nelle prossime ore la direzione del policlinico deciderà se adottare ulteriori azioni disciplinari nei confronti del dipendente. Nessuna dichiarazione ufficiale in ottemperanza alla disposizione dell'assessorato regionale alla salute che ha avvocato a sé tutta la gestione della comunicazione in merito all'emergenza coronavirus. Intanto è stata inviata una disposizione scritta a tutti i dipendenti del policlinico con la quale si vieta qualsiasi comunicazione all'esterno facendo transitare tutto dai canali ufficiali. L'ASP di Messina invece per domani mattina ha convocato una riunione del tavolo permanente provinciale composto dai direttori degli ospedali e dei distretti per fare il punto della situazione.